La Casa Divina Providenza non è destinata a fallire. Al contrario, sono state già predisposte una serie di azioni, volte non solo al salvataggio, ma anche al rilancio dell'ente. A confermarlo è la Direzione Generale delle Ancelle della Divina Providenza, che esprime perplessità in merito alla notizia circolata in questi giorni dell'imminente fallimento dell'ente fondato da Don Pasquale Uva, a seguito della bocciatura del concordato preventivo da parte dei tre commissari giudiziali nominati dal Tribunale di Trani. Il nuovo management, fanno sapere dalla Direzione Generale, insediatosi solo due mesi fa, ha individuato azioni e soluzioni per rafforzare il piano di salvataggio dell'istituto ospedaliero, nell'interesse dei suoi creditori, dei dipendenti, dei pazienti e dell'intero indotto. Le linee guida del rinnovato piano di salvataggio saranno sottoposte all'attenzione del Tribunale, della Procura della Repubblica e dei commissari giudiziali, proprio in occasione dell'udienza del prossimo 1 ottobre, quando si cercherà di individuare una soluzione condivisa alla crisi, tenendo conto delle criticità riscontrate dai tre commissari. L'ente Casa Divina Providenza ha inoltre messo a punto un piano di ristrutturazione aziendale pesantissimo nei confronti del personale, 1.290 dipendenti con contratto di solidarietà su un totale di oltre 1.400, più 418 lavoratori in mobilità dall'aprile scorso. Seguendo le linee generali del piano di salvataggio, solo un nuovo accordo con la Regione Puglia è in grado di assicurare un equilibrio al regime minimo che sopporti la continuità aziendale. Rapporto instauratosi solo qualche giorno fa con l'assessorato regionale e con la Commissione Sanità, il tutto garantendo livelli occupazionali diretti e dell'indotto e assistenza sociosanitaria di elevato impegno professionale. Insomma, la partita non sarebbe ancora del tutto chiusa e dalla Casa Divina Providenza assicurano c'è ancora qualche carta da giocare.